Stacca la sicura, conta fino a dieci e lancia con forza. Uno. Due. Tre. Quattro. E tu che fai, sei ubriato? Signor Do, mi è calata la vista di botta all'improvviso. E quando è che è cominciato questo disturbo? Veni un po', signor Tenente, mi è successo stamattina quando è suonata la sveglia. Ok, ok, ok. Sono io, il dottore. Stavi parlando con un camice bianco avviso alla taggapanni. Che lo stava lì, Tenente? Non ci vedo tanto bene. Stengo appena chiaro dallo scuola. Mi dica un po' i gravi. Molto gravi. Porta questo al tuo superiore. Sette giorni di rigore, ma c'è un po' il mio. Adesso ma riconosci la mia struttura microscopica, eh? Sono ape o me, miracoli non mi piacciono. Non mi sconti in ferro. Avanti. Vai. Lava vivo. Oh! Ha, ha, ha. Grazie a tutti.